è in corso di svolgimento la seconda edizione del progetto cioè centro interdisciplinare opportunità espressive per formare 100 allievi provenienti da tutta italia come attori musicisti cantanti ballerini artisti di strada l'iniziativa ideata e diretta dall'ello arena è finanziata dal comune di napoli e realizzata in collaborazione con la rai le buone idee sono buone nel senso che sono buone da sole non bisogna fare niente bisogna soltanto proteggerle e poi fare in modo che questa storia di questa comunità d'arte che non è un caso che nasca a napoli anche supportata in maniera strenua da questa amministrazione che è sensibile a questi progetti perché non è che bisogna solo fare le buche la spazzatura e tutti i servizi ma questo è uno dei servizi che viene offerto dalla città ai napoletani e non per cui era una storia bellissima di una comunità unica d'arte siamo molto contenti di questa seconda edizione di cioè perché molto coerente con le politiche culturali del sindaco e tutta l'amministrazione valorizzazione dei giovani formazione formazione concreta che sfocia anche in spettacoli quindi abbiamo davvero la possibilità di valorizzare i nostri giovani e i nostri talenti anche questa industria culturale dal 22 ottobre rai play trasmetterà una serie televisiva dedicata alla scuola alle prove alla formazione fino alla preparazione dello spettacolo conclusivo i ragazzi debutteranno infatti dal 9 al 16 agosto nel corso dell'estate a napoli in piazza plebiscito le seconda edizione di cioè il comune per volontà del sindaco manfredi investe ancora una volta sul talento dei giovani della città e augurando il grande futuro palcoscenici nazionali internazionali nostro compito è quello di fare in modo che questi giovani possono avere delle occasioni per dimostrare le proprie capacità ed è quello che stiamo facendo napoli è una fabbrica di talento lo è naturalmente per la sua storia per le tante storie che racconta ma soprattutto napoli rappresenta la vera fabbrica della creatività italiana ed europea questo per noi una grandissima soddisfazione una grandissima opportunità che noi dobbiamo portare avanti sfruttare che dobbiamo valorizzare significa dare futuro ma anche rafforzare la grande immagine internazionale della nostra straordinaria città